Siamo con Andrea Marchini, presidente dell'Aves regionale Umbria. Donare il sangue fa bene. Tante le iniziative che state prendendo. Ci spiega non solo l'importanza di donare il sangue, ma qual è la situazione in Umbria? Allora, la situazione donazionale purtroppo in Umbria stiamo registrando un ulteriore calo di circa mille donazioni rispetto all'anno 2017. Ormai dal 2015 ad oggi il calo sta diventando cronico. E questo è dovuto principalmente a un distacco dei nuovi donatori rispetto ai donatori che avevamo precedentemente, che erano molto più precisi. Comunque, tale fenomeno va valutato anche in funzione delle effettive esigenze di sangue che ha la regione Umbria. Ad oggi, quest'anno, l'anno 2018, la regione Umbria non ha dovuto acquistare sacche di sangue da altre regioni. Quindi l'utilizzo delle sacche di sangue è attorno ai 40.000 sacche che rispetto alle 41.500 previste precedentemente sono state utilizzate di meno. Quindi, pertanto, le donazioni sono state sufficienti. Quindi non possiamo parlare né di carenza, ma di soltanto dei cali periodici di donazioni nei periodi più caldi, che sono l'estate e nelle vacanze di Natale e di Pasqua. Il fenomeno della donazione del sangue è un fenomeno un po' particolare, legato soprattutto alla disponibilità di innumerevoli soci a fare la donazione del sangue, che sia volontaria, anonima e consapevole. Purtroppo, troppo spesso, questa viene sottovalutata da parecchi punti di vista, specialmente dal punto di vista educativo. La solidarietà fa bene, fa bene a tutti, fa bene al cuore, ma fa bene anche a noi donatori perché ci controlliamo la nostra salute. Ricordiamo che chi fa la donazione del sangue ha le analisi gratuite e pertanto si controlla e fa il monitoraggio della propria salute temporaneamente. Come vi spiegate questo calo e cosa avete in programma per il 2019 per cercare di coinvolgere più persone? Allora, con l'iniziativa del calendario barba nera, il piccolo barba nera, iniziamo la campagna 2019. Come tutti gli anni, cerchiamo di entrare all'interno delle famiglie con diverse attività sul territorio. Certamente la promozione fatta soltanto sul simbolo Avis non è più rispondente a quelle che sono le esigenze donazionali. Noi andiamo a contattare personalmente il donatore, ecco perché noi abbiamo proposto al servizio regionale del sangue le aperture domenicali tutti i mesi, mentre quest'anno è stato un progetto pilota che ha funzionato molto bene su quasi tutto il territorio regionale. Noi speriamo che le aperture domenicali, con la programmazione e con l'accoglienza, un maggiore sforzo sulla chiamata, possiamo incrementare le donazioni. Stiamo vedendo che nei centri più importanti, che sono Perugia, Foligno, ci sono delle tendenze in controtendenza e quindi stanno migliorando le donazioni e gli accessi. Quindi cerchiamo di sviluppare queste cose anche negli altri territori, in maniera tale da essere più efficaci ed efficienti.